Sempre più cittadini palermitani lamentano ritardi e altri disservizi legati al trasporto pubblico dell'AMAT. Bus in perenne ritardo, poco attrezzati e poco sicuri, ma sono solo alcune delle rivendicazioni per cui i sindacati hanno indetto lo sciopero, previsto inizialmente per il 25 ottobre e ora spostato all'8 novembre. I mezzi resteranno fermi dalle 8.30 alle 17.30. A incrociare le braccia i lavoratori aderenti a Filt CGL, Fit CISL, UIL Trasporti, Faisa CISAL e Orsa. Abbiamo chiesto al nostro ente proprietario, che è il Comune di Palermo, un contratto di servizio che è ormai scaduto dal 2005, perché vogliamo dare noi intanto garanzia ai cittadini palermitani sull'utilizzo del mezzo pubblico, quello che ormai non avviene quasi più, perché su una programmazione di 280 vetture giornalmente su strada ce ne sono 230-240 e quindi giornalmente diciamo che siamo in fase di sciopero perché manca il servizio. La periferia ormai è sguarnita quasi totalmente, non c'è più garanzia di nulla. Le difficoltà economiche in cui versa il Comune di Palermo, dicono i rappresentanti dei lavoratori, coinvolgono pesantemente l'AMAT compromettendo nelle attività. Nuovità, i stipendi non pagati e la mancanza di un turnover fisiologico sarebbero all'origine del crollo delle qualità dei servizi offerti. La città versa in una condizione di trasporto, il trasporto che è indicato come essenza vitale di una città, perché il trasporto, non il pubblico, ma il trasporto inteso nel senso lato, è la vita delle città, del mondo. E quanto considera il trasporto pubblico locale qui a Palermo, versa in una condizione di grandissimo disagio, vuoi un po' per la crisi economica che si è creata, in cui le condizioni dei nuclei familiari non sono più nelle condizioni di poter prendere il proprio mezzo per potersi adegare al lavoro, ma bensì cercano di poter usufruire di quello che possa essere il trasporto pubblico locale. E qua non trova perché l'offerta che viene data alla domanda è completamente sballata.